Tante emozioni al diliddo di Biceglie, sei gol, tre espulsioni e numerose occasioni da entrambe le parti. Alla fine la spunta l'Unione Calcio che batte 4-2 il Molfetta e si rilancia per la lotta salvezza. Il primo tempo decolla subito, dopo quattro minuti Ventura sfiora il palo di testa per la prima occasione degli uomini di Bartoli. Al quindicesimo Tegola per Mimmo di Corato che deve rinunciare al suo numero 9 al Brizio, sospetto stiramento. Al suo posto entra in gredda ed è proprio il mio entrato a mettere i brividi al Molfetta al 27esimo con un palo clamoroso che toglie la gioia del gol all'attaccante classe 2000. Due minuti più tardi sviluppi di un calcio d'angolo, la tocca per ultimo Quacquarelli che sigla la rete del vantaggio, abile a crederci. L'Unione Calcio si porta così sull'1-0. Al 35esimo il Biceglie ha la palla del raddoppio con Trigiani che fa tutto da solo, salta la difesa ma si fa impriotizzare da De Santis, occasione incredibilmente sciupata. Nella ripresa entra un altro Molfetta calcio, minuto 9, mischia in aria decisa dalla zampata vincente di Pinto ed è 1-1 al di Liddo. Quattro minuti dopo ancora ospiti in avanti, palla Ventura che dal limite lascia partire un tiro potente e imprendibile per il giovanissimo di Bari. Risultato ribaltato in meno di 5 minuti, gli uomini di Bartoli festeggiano la rete del momentaneo 1-2. Al 17esimo Tegola questa volta per il Molfetta, secondo giallo per Adriano e doccia anticipata per il centrocampista Biancorosso. Molfetta in 10 uomini, l'Unione Calcio sfrutta subito l'occasione, Trigiani scambia con Ingridda e lascia partire una traiettoria che si insacca alle spalle di De Santis, 2-2 al di Liddo e la sensazione è che le emozioni non siano ancora finite. Il match è vivo ed entrambe le formazioni potrebbero trovare la rete vincente. Al 38esimo contropiede del Biceglie guidato da Trigiani che fa tutto da solo e trova la seconda traiettoria vincente di giornata, 3-2 ed esplode la gioia dei tifosi locali e di tutta la panchina dell'Unione Calcio. Nel finale nota dolente per un parapiglia che vede i protagonisti Cefarco e Marinaro, entrambi espulsi e costretti ad abbandonare il campo. In pieno recupero Petracchi su calcio di punizione chiude i conti con una conclusione magistrale, De Santis resta immobile, il match del di Liddo termina così 4-2. Nel prossimo turno l'Unione Calcio sarà di scena a Gallipoli, a Molfette invece arriva la capolista Casarano.